Veridiana De Moraes non è una rampicatrice pronta ad usare la sua presunta relazione con Geppi Lama per un po' di notorietà. Questo è quello che lei ha lasciato intendere e su cui il pubblico ha qualche dubbio. Lei è la bella biondina che nei giorni scorsi è stata ospite a Pomeriggio 5 proprio per parlare della sua relazione triennale con l'attuale compagno, Sembra, di Aida Jespica. La showgirl è entrata nella casa fidanzata e ha rischiato seriamente di persere l'imprenditore per via di un piccolo bacio dietro la tenda del confessionale dato a Jeremias Rodriguez. Subito dopo il reality la bella Aida aveva confermato la rottura con lui ma poi, ospite a Verissimo, aveva nuovamente cambiato versione. A quanto pare i due hanno capito l'importanza del loro rapporto e del loro sentimento e hanno deciso di riprovarci. Peccato che piovano pettegolezzi come acido sulle dolci parole di Aida Jespica e che il pubblico sia sempre più interdetto desideroso di conoscere preso la verità. Aida Jespica ha parlato di pace fatta con Geppi Lamma ma forse non era al corrente del fatto che il suo compagno stava frequentando un'altra. Almeno secondo quanto ha detto Veridiana de Moraes, lei e Geppi si conoscono e si frequentano ormai da tre anni ma si sono sempre lasciati e ripresi soprattutto quando lei aveva modo di avvicinarsi ad un altro uomo. Fin qui niente di male se non fosse che sempre la bella biondina, nel salotto di pomeriggio 5, ha rilanciato dicendo che in questo periodo lei e Geppi si sono avvicinati molti e che lei, fino alla serata della finale del grande fratello Vip, ha fatto l'amore con lui e si è sentita dire parole d'amore e fare grandi promesse. Lei ha voluto dire la verità su questa situazione proprio per dimostrare che è lui quello che approfitta delle donne, che vuole approfittare della notorietà di Aida Jespica e che vuole tenere tutte in bilico. Questo servirà a cambiare le cose?